Uno dei concetti più equivocati dalla società moderna è quello di ricchezza e abbondanza. Basti pensare che la parola italiana raggi molto probabilmente deriva per vari trascorsi successivi dal sanscrito rai, che significava proprio ricchezza. Ma la ricchezza e l'abbondanza, il labrama di desiderio di ricchezza, per gli antichi era profondamente diversa. Innanzitutto cominciamo dal capire che cosa significa desiderio. Desiderio è essenzialmente derivato dal latino desiderium, cioè quindi la mancanza delle stelle, l'essere privati delle stelle. Il desiderio si configura perciò come una mancanza dello stato celeste, che deve essere riempita. Dalla sua pienezza noi abbiamo attinto grazia su grazia, dice il prologo famoso del Vangelo di Giovanni, e ancora San Paolo nella lettera agli Efesini, dal capitolo 4, che richiederebbe un video a parte nella sua grande profondità mistica, ricorda che per mezzo di Cristo abita la pienezza, l'interezza della sua pienezza nella Chiesa, che è il suo corpo. Dunque, che cosa vogliono dire questi termini, che oggi possono suonare così diversi da quelli cui la società moderna ci ha abituati? Essenzialmente l'abbondanza e la ricchezza è un principio, non è uno stato, non è un sentimento, ma è un principio, ovvero il principio di ricerca del cielo, proprio quel desiderare, cioè quella avvertire la propria mancanza, la propria insignificanza di fronte alle stelle, di fronte all'universo e di fronte al suo creatore, che ci permette di comprendere la nostra necessità di dipendere da Lui. Oggi anche un altro concetto molto equivocato è quello della dipendenza, è quello della resa. Noi pensiamo che se ci si arrende si è deboli, si è vinti, si è sconfitti, mentre la resa di cui parlano le antiche scritture è quella in cui la goccia si lascia a dissolvere nell'oceano, diventando è la stessa l'acqua di quel possente oceano. La vita dunque ci è data per scoprirci l'acqua della goccia, non per aggrapparci a una goccia d'acqua. L'aggrapparsi alle ricchezze materiali è il valorizzare una goccia d'acqua. L'aggrapparsi alle ricchezze spirituali, il desiderio di abbondanza spirituale, è invece proprio la comprensione dell'essere acqua, di dover tornare a quell'oceano, che la goccia è un problema, non la soluzione. La grazia si riversa in una quantità infinita, in un volume finito. Come può accadere ciò? Bene, accade con il riversarsi dell'acqua infinita in un piccolo bicchiere finito. Dove va a finire, scusate il gioco di parole, il resto dell'acqua? Essa trabocca costantemente. Solo chi costantemente trabocca, cioè dona agli altri quella grazia che riceve, rimane sempre pieno. E si può dunque realizzare il mistero straordinario dell'infinito nel finito, la incommensurabilità. Questo mistero, questa grande profonda verità, è stata intuita in molti modi, con linguaggi diversi dalle società antiche. E quest'oggi volevo presentarvi proprio un confronto tra la cultura vedica, quindi alle basi e alle origini dell'India, specificatamente nelle scritture del Rig Veda, alla base di tutta la sapienza indiana, è un salmo biblico. Proprio per mostrarvi come per gli antichi il concetto di dipendenza, il concetto di approvvigionamento gratuito da parte della divinità, alla base proprio è la forza della ricchezza. Dunque più si è dipendenti, più si è affidati a Dio, più si è ricchi. Più si riceve grazia da dare. È la legge della vita, prendere per dare. Andiamo a vedere questi due esempi di cui volevo in due minuti parlarvi, benché richiederebbero molto di più. Il primo lo troviamo in Rig Veda 6,28, il secondo in Salmo 84. Facciamo una lettura incrociata, un'esegesi incrociata, che sperimentalmente ci può aiutare a mostrare in modo molto più profondo il concetto di abbondanza. Nei Veda il concetto di abbondanza è specificato dal termine Go, che ha una tuplice valenza. Significa, da un lato significa vacche, dall'altro significa raggi di luce. Infatti il popolo vedico era un popolo di pastori, dunque la migliore rappresentazione dell'abbondanza materiale sarebbe proprio quella di avere un gran numero, possedere un gran numero di vacche. Ma allo stesso tempo quei mistici non parlavano di una semplice ricchezza materiale, ma usavano immagini della natura, espressioni della vita comune dell'uomo, per introdurre l'ascoltatore a realtà soprasensibili. E dunque con il termine vacche si intende proprio quella sapienza, quei raggi di luce, quelle grazie che si ricevono ogni giorno dal Signore e che permettono all'uomo di accrescere la sua conoscenza, il latte che esse producono, ma questa conoscenza per non fermentare, per non diventare arroganza deve passare attraverso le prove della vita, deve essere cioè schiacciata, frullata, da cui si ottiene la panna, si ottiene il ghi, un alimento ancora molto importante in India che rappresenta proprio quella luce, quell'intelletto chiarificato attraverso le prove della vita e la sottomissione alle regole di essa, quindi all'ordine divino, all'ordine cosmico, al fine di avere la piena illuminazione, la salus, l'essere integrato, integrale, completo e armonico. Guardate come questo concetto si vada a sovrapporre esattamente tale quale al desiderio di abitare nella casa del Signore per ricevere pienezza. Ma pienezza da chi? Da colui che è il sommo sacerdote, che officia il sacrificio per noi, Gesù Cristo, nel Tempio Celeste, ora sappiamo naturalmente secondo la comprensione cristiana. Dunque, guardate il paragone, molto interessante. Da un lato si dice nell'inno rigvedico, sono giunte le vacche della luce, potremmo tradurlo anche, sono giunte questi raggi di luce, queste grazie, portando la gioia. Sì, nelle nostre stalle soddisfatte esse possano rimanere, cioè nelle nostre menti. Possano esse generare per noi molta conoscenza, cioè vitelli variegati e fecondi, e versino la conoscenza alla mente ogni giorno. La mente divina cerca di aiutare colui che offre e dona, aumentando non diminuendo i suoi possedimenti. Anche qui viene specificato il principio della legge della vita. Chi dona conserva l'abbondanza. È paradossale, eppure è proprio così. Solo chi lascia traboccare quel flusso infinito d'acqua non scoppia. Accrescendo sempre più il suo tesoro, egli pone il devoto in un reame inviolato. Quindi l'ottenimento della pace e della difesa e della sicurezza, quella pace che non è solo assenza di guerra, ma pienezza dello Spirito. Guardate come sembra eccheggiare nel Salmo 84 queste prime due strofe, quando si dice, per esempio, guardate, quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. Quindi il dimorare, il prendere dal Signore. Guardate poi cosa dice, anche il passero trova casa e una rondi nel nido, dove porre i suoi piccoli presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio re e mio Dio. Quindi la sicurezza della casa del Signore significa dimorare come sua stirpe. E come si dimora come sua stirpe? La casa e la stirpe, la famiglia, si dimora facendo parte tramite il battesimo nell'ingresso della famiglia di Dio. Quindi in cui il nome di Dio diventa il nostro nome. Noi siamo chiamati con il suo nome e lui è chiamato con i nostri nomi. Non è solo il Dio di Abramo, di Isacco e Giacobbe, ma anche di me, di te, eccetera, ognuno con i suoi nomi. Colui che dimora, quindi, beato l'uomo, che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Vedete? Il rifugio si trova solo andandosi ad armonizzare con quella legge divina. Egli cresce lungo il cammino, cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Vedete, paragone, accrescendo sempre più il suo tesoro, questa ricchezza spirituale, questa pienezza dell'essere, entra in un reame inviolato e qui compare davanti a Dio in Sion. Cioè Sion rappresenta il regno dei cieli finale compiuto. Poi l'inno vedico continua. Queste vacche, queste grazie divine, non saranno perdute. Nessun predone farà loro del male. Nessun nemico oserà traviarle. Colui che sacrifica e fa offerte con lui. Quel signore delle vacche si intratterrà a lungo. Cioè il signore che ci dà la grazia si intrattiene a lungo, per lunghi giorni abiterò nella casa dell'Eterno, dice il Salmo 23, proprio con chi dona, con chi possiede quella ricchezza che viene dal donare le ricchezze che si ricevono, materiali e spirituali, perché per l'uomo antico è un tutt'uno. E infatti, vedete nel Salmo, il Signore concede grazie e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. È meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. E subito dopo il cavaliere che fende la polvere non può raggiungerle. Quindi questa minaccia della fretta, dell'ansia di questa vita non può fermare se noi dimoriamo nella pace, nella grazia. E il loro percorso mai conduce al macello. Queste vacche e il cercatore proteggono e accrescono. E poi una strofa dal sapore mistico. Le vacche sono vaga, vaga è l'abbondanza, la pienezza divina, la felicità divina. Le vacche sono indra, la mente divina, il primo sorso versato di Soma, della vita divina. In verità, queste vacche, fratelli miei, sono la mente divina, la mente che la mia anima brama con tutto il cuore. E viene in mente, scusando l'espressione ancora una volta, la liturgia eucaristica che ci dice nella preghiera eucaristica, in alto i nostri cuori, le nostre menti, il nostro spirito, sono rivolte al Signore. Quindi quel bramare, quel desiderare, altro non è che nostalgia di Dio, dell'essere continuamente riempiti da quella pienezza. Come ricorda la Isha Upanishad, quella è pienezza, questa è pienezza. Se dalla pienezza si toglie pienezza, essa resta sempre pienezza, dalla pienezza si attinge pienezza. E il Salmo 84, l'anima mia anela e desidera gli atri del Signore, il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. E anche prima in un Salmo viene detto proprio l'espressione, il mio cuore e la mia carne possono venire meno, ma la mia speranza è nel Signore. E' proprio questo il culmine, il centro per il Pio Israelita, ma anche per il popolo vedico, il fatto cioè che tutto l'interezza dell'essere deve avere Dio a fondamento della propria vita. Quella struttura gerarchica. Se io bramo con tutto il cuore Lui, se io bramo e dico Beato chi abita nella tua casa, senza fine canta le tue lodi, allora sarò al sicuro, perché nella casa dell'Eterno c'è l'Intercessore, c'è Cristo, il Consacrato. Versetto 10 del Salmo 84. Guardo Dio colui che è il nostro scudo, guarda il volto del tuo unto, perché sole e scudo è l'Eterno Dio, il Signore concede grazie e gloria. Vedete, sono concetti che non hanno neanche bisogno di essere spiegati, solamente proclamati, perché formano da soli la loro abbondanza nelle vostre menti. E questa è la vera ricchezza. Queste sono quelle vacche da custodire bene nel proprio recinto, non le aspirazioni materiali, non le futili illusioni di questo mondo. Infatti, guardate come si conclude l'inno rigvedico proprio a tal proposito. Siete fecondate dall'abbondanza e bevete acqua pura alle sorgenti. Né il ladro né il malvagio vi possono possedere e siate risparmiati dagli strali, dai dardi, dai dardi del fuoco. Quindi quel fuoco estraneo, quel fuoco estraneo che produce un comportamento estraneo alla legge divina. Mentre chi cammina nell'integrità, il Signore non gli rifiuta alcun bene. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. E si conclude, dice che queste vacche si accrescano. E tuo Dio sei il loro toro che le feconda con la tua semenza virile. Quindi, ancora una volta, l'elemento dell'incarnazione in cui l'anima umana è vista come una dimensione femminile che deve ricevere la potenza virile, la virilità sacra oggi calpestata da questo mondo, e deve riceverla. Proprio perché sia possibile la fecondazione, cioè sia possibile la generazione spirituale. E allora l'elemento divino si incarna, la parola si incarna, nutre e rende noi un tutt'uno con lei, quindi un unico corpo. Quella vibrazione che pervade tutto l'essere diviene perciò la manifestazione delle qualità di vita in noi. Ma questo avviene secondo appunto la logica dell'incarnazione, avviene secondo la logica del dono, del sacrificio. Ecco, queste sono essenzialmente le caratteristiche della mentalità antica nella comprensione dell'abbondanza. Basta appunto confrontare questi questi piccoli salmi, questi canti spirituali e potere notare come ci viene presentato un altro ideale di vita. A noi il compito è la responsabilità di incarnarlo appunto accettando, dicendo il nostro sì, il nostro sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, per riarmonizzare il sopra e il sotto. E questo è molto importante, perché oggi si dà spazio solamente alla componente della terra, la componente materiale, terrena, mondana, mentre vale più un giorno nei tuoi atri che mille a casa mia. Ecco, anche la prima pioggia ammanta di benedizioni e rende fertile colui che trova in te il suo rifugio, continua il salmo. Per cui anche la pioggia, tutto negli elementi della natura, tutti gli elementi hanno un loro significato. Se noi siamo pronti ad accoglierlo, se noi siamo pronti a esserne consapevoli, possiamo sempre più orientarci all'abbondanza e alla dipendenza da Dio che crea la pienezza. Dalla pienezza si attinge pienezza e non si produce nell'indipendenza e nell'appiattimento materialistico.